Questa è l'edicola che è inserata dopo la celebrazione eucaristica delle 19, oggi domenica 13 giugno 2021, dopo che è stata recuperata, pulita, restaurata, è un'edicola in maiolica. Ne intravediamo i pezzetti, ma la figura è Sant'Antonio, il quartiere era già dedicato a questo ed è anche una forza e una fattura abbastanza semplificativa. In effetti già esisteva, è stata solo restaurata. Il restauro delle maioliche non è una cosa semplice, ma comunque la stasera la andremo a vedere. Siamo un po' combattuti perché nella chiesa che abbiamo visitato poco, anzi quella di Sant'Antonio al Sorrento Palace, sempre alle 19 e stasera ci sarà il concerto dei cantori della cattedrale e quindi omaggeranno e concluderanno la festa di Sant'Antonio in quella chiesetta, in quello slarico, in quello spazio, certamente non tutti assemblati nella chiesa, sarà all'aperto. E qui invece ci sarà lo scoprimento di questa lapide. Vedremo in modo o nell'altro, Ambrogino, di fare tutte e due le cose. O ci dividiamo i compiti o ci dotiamo di motorini che ci permettono di volare e di salzare da destra a sinistra. Grazie.